Anche la primavera si è vestita al lutto. Il silenzio di ieri, a poche ore da una tragedia indescrivibile, è rotto dal pianto sommesso di chi oggi deve fare i conti con la realtà. Luca non c'è più e qui in questa casa in prima collina, luogo di ritrovo familiare del weekend a poche centinaia di metri dallo stradone che unisce Montesilvano a Pescara in strada a Palazzo. Il piccolo di quattro anni veniva volentieri. L'altalena fatta da papà, Egno, le molle per saltare senza rischiare di farsi male, un canestro per giocare a basket e la bici per scorazzare insieme alla sorellina Lara, un anno e mezzo più grande. Poco dopo il pranzo a casa di nonna Laura, Egno è salito sul trattore per mettere a posto un pezzetto di terra mentre Luca era in bici ed era tenuto sott'occhio, poi qualcosa è andato storto. Il bimbo intorno alle 15 non si è più visto, di lì il dubbio del papà che decide di spegnere il trattore e di scendere dal mezzo. A pochi metri la dolorosa scoperta, le urla disperate hanno richiamato l'attenzione dei vicini, sono intervenuti un medico e un'infermiera del 118, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il medico legale Piraiezzi ha constatato il decesso. La polizia municipale ha avviato ieri sera i rilievi con il supporto della polizia scientifica, sul posto anche i carabinieri e la squadra volante. Difficile ricostruire quei minuti, si ipotizza che l'incidente possa essere capitato durante la manovra di rimessa del mezzo, ma è ancora tutto da chiarire. Sotto sequestro il trattore e la bici del piccolo Luca, intanto a carico del papà, l'iscrizione nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio colposo.